bella ragazzi e grazie sono da un nuovo episodio e ci lasciamo subito su b perchè su questa mappa se ti lanci subito la prendi hai vinto la partita prendi la bandiera ah, davvero? invece se ti lanci subito su altre mappe la bandiera te la prendi? no, vedi perché ah, ho capito, ho capito vabbè perché lui è il prodigolo of duty non so se lo savate, intanto quello là non lo ammazza un attimo, lo ammazza da qua più figo no, è più visi oh, incredibile, non è morto questo sto finito intanto fa subito sparo una granata oddio mamma mia che pro è ho fatto tutta la aspetta una dovanacchina vai road to one kill questo sta costa a meno guarda che mi vuoi sparare pure quando mi vede no, non lo vedevo sai come è invisibile oh, oh, oh come assist? vabbè qua comunque colpi in testa pare che fanno meno danno rispetto ai colpi in un corpo a destra oh aspetta, aspetta che sta qua ma che dicevo famo oh, come l'ho preso? perché l'invisibilità la vedete voi? ma io la vedo ma non hai visto stagli 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 esci ma tu stai ma che stai a dire oh, ah, incredibile dai, io dove sta questo? oh, che cazzo fa, so con te stavo con sotto eccolo la merda ammazza che pezzo di merda nessuno se ne ha raccordi no, io lo vedo da lo abbero da lo abbero proprio non beccavo più oh, 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 oltre al Tasquảng so la Io sono quanti sono, quanti sono propri so ce la menace quasi bamba così balla barbari barbari 17 millim grande serra silenzia dove non lo so sulle due cose che vedo quanto dura l'invisibilità e' una volta in due due secondi quindi è inutile eh va bene ma cazzo era uno là un altro che volava della mentre l'altro saliva ditemi che toccava fa dice almeno uno poti ammazzare si oh tanto la gente salta ma tu vuoi dire non lo vuoi dire va' più figo così il bam 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 il tan 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 bam 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 oh e la madonna oh eccolo 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 mamma mia numeri numeri chi è? oh 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 montaci tu numeroni qua eh numeri loro però ora abbiamo un nocci aspetta che ce ne sta uno eccolo incredibile mamma mia che reattività è Daryl oh ce ne sarà un altro qua avanti avanza 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 cioè guarda qua c'è un'amadò ho capito ho capito sti cazzi che c'hai dietro lo so e poi non c'avevi dietro si ma mi stava sparando che vuol dire che c'è più falsa dietro c'è la sette spara ecco lì guarda qua aspetta ma uno miralo mirale per me porca droga qualcuno è ammazzato no è che me la prese il panico ma panico paura mangi mi devo ruminare partite oh 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 non muoiono non muoiono cioè pam ma sbaglio fa più lontano mi ha dato che la spari eh certo ma spari ti sei spostoso ti sei spostoso invece tu vuoi fare capo via con questo stiamo pareggendo molto come se sono dicendo molto per me ho parecchio per fare per me il senso del tavolo che mi chiede non voglio io voglio guardare qua del massimo sbagliato che padella il suo nome il il bellissimo sotto sottotitoli un po' di amici non l'amassi uomo che è stata fa come se non è un po' aiutare infatti lanciano via mamma mia che bella lanciano così a granada ma frega cazzo dell'introppone solo qualcuno si ma lo avvi potrà essere utile no? ma che cazzo ne frega ma io sono scuola è totalmente scuola che non copia ragazzo ooo ma mia amforma e datemi qualcosa e porca troia ma che cazzo lo avvi devi manda lo ammazzavi tutti se mandavi lo ammazzavi tutti ma la piccolina pantattina ma a me non mi frega niente perchè io voglio lui eh però non te poi muove così ma te che fai? metti la manina qua dietro? ma che schifo? si perchè date i pizze quando sbagli per zitto perchè tanto so si ma tu non ti guardi intorno ma c'è la gente che ti cammina davanti ma tu non ti preoccupare lo so l'ho visto quello che mi cammina davanti solo che camminavo troppo veloce solo se lo camminavo troppo veloce tana eh ogni volta di un millimetro non li becco mazza quanto vuol quanto fabio madonna mia proprio proprio eh è arrivata a giocare delle battute tristi per lui ma fatemi fare l'ultima kill no eh di certo sparando così la faccia di sicuro vabbè il video è finito io sono un pro player vediamo vediamo il punteggio finale vai 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 mi fa un culo 2814 ma che son se la cianca come è facile no 2814 vabbè dai hoci tua la fa comunque non questo è il video se vi è piaciuto lasciate un like condividete il video e non lo so fate quello che volete passate su nostri video privati pagina facebook in descrizione bella bella